Nel 2022 prevede ricavi per oltre 15 milioni di euro, con una crescita nel periodo 2018-2022 superiore al 50% all'anno. Mulan, il gruppo cremonese di Gadesco, già leader per presenza nell'online e nella grande distribuzione da S.Lunga a Conad, ha di recente perfezionato l'ingresso di nuovi soci e ora valuta lo sbarco in borsa, con quasi 6 milioni di piatti pronti ogni anno distribuiti in Italia, ma anche in Francia, Germania, Svizzera, Austria e Slovenia, per un totale di 8.000 punti vendita. L'azienda cremonese arriva ora anche nel mercato editoriale, come ha annunciato sui social l'amministratrice delegata dell'azienda Giada Zhang. Dopo tantissimi mesi, finalmente possiamo svelarvi il nostro piatto segreto, il libro di ricette in cucina con Mulan. In un video sottolinea la capacità del cibo di unire le persone e di fare da ponte tra passato e futuro. Per questo sono state raccolte le migliori ricette della tradizione cinese, tramandandole da nonna, madre e figlie. La pubblicazione sarà in libreria dal 27 settembre ed è già disponibile in preordine sugli store online. Sarà un viaggio tra curiosità, approfondimenti e consigli per conoscere meglio la cucina orientale.